Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con speciali elezioni politiche. Oggi parliamo del proporzionale Senato-Abruzzo, circoscrizione che assegna tre seggi, almeno nel proporzionale. Poi c'è il seggio sul collegio uninominale unico per Palazzo Madama, la nostra regione. Abbiamo avuto dei problemi tecnici in una precedente registrazione, dunque oggi abbiamo per recuperarla in studio il candidato capolista di Forza Italia, Lorenzo Sospiri. Buonasera. Buonasera direttore, buonasera telespettatori. Presidente del Consiglio regionale in carica in Abruzzo e, ripeto, capolista di Forza Italia nella circoscrizione del Senato. Sospiri, sono ore anche dalle notizie di queste ultime ore di questa giornata davvero preoccupanti per l'escalation segnata dal discorso di Putin, che ha chiamato la Russia alla mobilitazione generale. È chiaro che questo tema incombe sulla campagna elettorale anche in Italia, oltre che sulle preoccupazioni di tutti noi. Sulla tenuta della politica estera italiana, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato però chiaro nei giorni scorsi rispetto al valore fondamentale e irrinunciabile dell'Alleanza Atlantica e della collocazione europeista del Paese. Ma sarà così anche con i vostri alleati di centrodestra, se doveste imporvi come coalizione domenica prossima? Il Presidente Berlusconi è stato molto chiaro ed è evidente che Forza Italia rappresenta per la coalizione centrodestra il biglietto da visita al mondo di una coalizione affidabile che è pienamente all'interno del suo ruolo di paese fondatore dell'Unione Europea e nella sua alleanza naturale che è quella euroatlantica. Non vedo perché vi dovrebbero essere perplessità sugli amici, gli alleati e la coalizione centrodestra quando persino Fratelli d'Italia che pure era all'opposizione del governo Draghi ha sempre fatto avere il proprio consenso e i voti in Parlamento a tutte le iniziative prese dal governo in sostegno della popolazione ucraina e nel sostegno della scontro militare che c'è lì. Ciò però non toglie il fatto che io spero che si possa trovare il modo per una pesante azione diplomatica che faccia terminare l'escalation militare che ha non solo il pericolo incombente di una guerra nucleare che non voglio neanche nominare né pensare ma che sta avendo una ricaduta economica su tutto il continente europeo drammatica, è noto a tutti, è stranoto a tutti, ne parliamo tutti, del problema del caro energia, dell'aumento del costo dell'energia che sta diventando drammatico sia per le famiglie che per le imprese. In ogni caso anche rispetto all'Europa ci sono impegni importanti, ci sono le sanzioni che sono state varate insieme agli altri alleati, anche su questo Berlusconi è stato molto fermo, in particolare anche per la parte relativa agli interventi fissati dal piano nazionale di ripresa e resilienza che ci hanno fissato delle scadenze e degli impegni, ci sarà una continuità su questo anche nella prossima legislatura con Forza Italia, Forza di governo? Forza Italia è il partito in Italia che ha il maggiore peso all'interno del Partito Popolare Europeo, il Partito Popolare Europeo è la forza che governa il Parlamento Europeo e la Commissione Europea che è quella che ha varato e stanziato i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza che tante opportunità sta creando in Abruzzo e che la regione Abruzzo sta cercando, sta cogliendo, acquisendo tanti contributi come anche stanno facendo i comuni singolarmente. Il piano di ripresa e resilienza resta lì, si va avanti, si fanno le opere che sarebbero per il Paese e le riforme conseguenti agli stati di avanzamento stabiliti con la Comunità Europea, ciò non toglie che se ci dovesse essere un ripensamento su una parte dello stesso lo si farà per fronteggiare questa pesantissima crisi energetica a meno che l'Europa non si renda conto che occorre un ulteriore piano di sostegno ai Paesi europei perché c'è una guerra, sappiamo benissimo qual è la parte dove noi dobbiamo stare ma i colpi di queste guerre non possono ricadere però su cittadini e imprese quindi è un tema che dal 26 di settembre ci dobbiamo porre con la credibilità, lo standing internazionale, la forza che al governo di centrodestra potrà dare un partito come Forza Italia che è il leader all'interno del Partito Popolare Europeo. Nelle ultime ore della legislatura il governo Draghi ha varato una nuova manovra da 12 miliardi per sostenere le famiglie e le imprese e le imprese con il caro energia, a vostro avviso sarà inevitabile come afferma la Lega all'inizio della nuova legislatura o addirittura nel prorogazio delle attività del stesso governo Draghi uno scostamento di bilancio? Abbiamo dato una prima risposta anche grazie e soprattutto alle forze di maggioranza della parte di centrodestra del governo Draghi che è ancora in carica per gli affari correnti anche se questa è stata un'azione straordinaria quindi Forza Italia e Lega. A mio avviso servirà ancora altro prima che si trovino soluzioni che sentite dire che tutti quanti sentiamo dire del tetto al prezzo dell'energia europeo. Se con lo scostamento di bilancio che comunque è debito sulle altre generazioni o se con una rimodulazione di una parte del piano nazionale di ripresa e resilienza o se con un ulteriore piano energetico di sostegno a famiglie e imprese da parte dell'Europa questo lo vedremo. Certamente non possiamo tenere famiglie e imprese col fiato sospeso tra il riuscire a pagare le bollette o continuare a lavorare. Bisogna continuare a lavorare e bisogna far calare drasticamente il costo dell'energia. Quali sono le misure che voi proporrete in Parlamento a partire dalla prossima settimana quando saranno eletti nuovi deputati e senatori? Esiste un pacchetto di Forza Italia sul tema dell'energia che guardi a medio e lungo termine sì ma anche a breve per l'impatto che avrà questo inverno terribile che si annuncia per i costi dei consumi di riscaldamento e di luce per le famiglie e anche le attività delle imprese più energivore del nostro paese? Allora innanzitutto diciamo che l'Italia fortunatamente per precedenti rapporti nell'area del Mediterraneo si trova in una condizione in cui gli stoccaggi nazionali sono quasi completati. Le misure sono tre sostanzialmente. Interveniamo rapidamente come abbiamo già fatto lo ricordava lei per mallevare gli attuali costi. Cerchiamo di trovare una misura che costringa a stabilizzare un prezzo accettabile e non così speculativo. Tre, creiamo le condizioni per produrre anche noi energia e questo è un ragionamento di medio e lungo periodo e non essere sempre soccombenti nei confronti come in questo caso delle forniture russe. Chiaramente tutta la politica del no a tutto, del no a tutti gli impianti. La Croazia estrae il suo gas nell'Adriatico, per noi questo è un problema, ce lo fanno di fronte casa. La Francia minaccia di chiuderci le forniture di energia elettrica che produce con centrali nucleari al nostro confine o giù di lì. Non è pensabile che in Italia non si possa fare quello che nel mondo si fa. Ovviamente vi è una quarta ipotesi che però è una speranza che termini questo conflitto e si possa riprendere un ragionamento per il quale alle nostre imprese, alle nostre famiglie, torni la possibilità di una fornitura di energia che ci proviene dai contratti che abbiamo in essere che non sia così onerosa. Lei, Presidente del Consiglio regionale, si candida a rappresentare gli elettori di questa regione, il Parlamento, perché ricordiamo che il Senato ha una sola circoscrizione regionale in Abruzzo. Quali sono le partite più rilevanti, aperte nel lavoro consigliare di Palazzo dell'emiciclo in questi anni e che vanno messi a terra anche lavorando in Parlamento o completando delle pratiche dei dossier che sono ancora fermi? Innanzitutto io mi candido al Senato perché sono convinto di aver raggiunto la maturità e la preparazione giusta per una carica tanto importante e nell'esperienza di questi tre anni in Consiglio regionale di aver anche acquisito la piena consapevolezza di essere un senatore di tutta la regione, con la conoscenza profonda dei problemi di tutte le aree di questa regione e con l'esperienza per trovare le soluzioni necessarie. È chiaro che l'Abruzzo ha bisogno di essere sostenuta sulla sua riforma della rete sanitaria, sul suo corredo infrastrutturale, ovvero un corretto progetto della linea Pescara-Roma, ma che si deve fare, nuova linea ferroviaria sulla linea Pescara-Roma, alta velocità sull'Adriatica, terza corsia sull'autostrada 14, di cui devo dire attualmente la gestione dei cantini in essere è qualcosa di vergognoso, perché non è pensabile un tempo di percorrenza per piccoli tratti nella parte a nord della provincia di Pescara dentro la provincia di Teramo, è sostanzialmente insostenibile per cittadini e imprese che devono portare le loro merci. Poi c'è tutto il ciclo della programmazione europea con opere infrastrutturali e di sostegno all'impresa. Io credo che l'Abruzzo abbia bisogno di avere dei parlamentari preparati, consapevoli di essere dei parlamentari di tutta la regione, che sono in grado di sostenere il lavoro che la regione sta facendo e che si siedano ogni giorno nelle commissioni e negli uffici giusti per riportare in Abruzzo le risorse che servono. Ecco, ma tra questi parlamentari potrà essere considerata una parlamentare abruzzese anche Giorgia Meloni che è candidata all'Uninominale alla Camera all'Aquila e che potrebbe essere premier di questo paese. Allora direttore comprendiamoci, chiaramente io sono un uomo di parte quindi non bisogna chiedere all'oste com'è il suo vino, ma diciamo così, un paese che è in questa situazione così difficile deve avere una precondizione per riuscire a risolvere i problemi che si chiama stabilità di governo. L'unica coalizione che può vincere le elezioni è il centro-destra, perché gli altri sono litigiosi e divisi. Non votare il centro-destra vuol dire votare contro la stabilità di governo e qualsiasi altro voto è inutile. Avere Giorgia Meloni candidata nel collegio Camera all'Aquila-Teramo vuol dire che questa regione ha sicuramente un'arma in più perché Giorgia Meloni porterà certamente questa parte di territorio che parte dall'Aquila-Teramo ma che riguarda tutto l'Abruzzo nel cuore. Ma non basta Giorgia Meloni, che Giorgia Meloni avrà la competenza e la responsabilità di occuparsi di tutta l'Italia. È giusto che ci sia qualcuno che le parli all'orecchio, come io credo di poter fare per l'esperienza che ho acquisito e per la credibilità che ho acquisito e ricordarle quali sono gli impegni che riguardano non solo l'Aquila-Teramo, l'Aquila-Teramo e tutto il resto dell'Abruzzo. Lei ha un anno e più dalle prossime regionali, pensa che questo test sia una prova generale per le regionali del 2023? Per le regionali del 2024 io credo che la coalizione centrodestra abbia tutte le condizioni per andare unita alle elezioni, chiudere nella parte finale della legislatura grandi temi importantissimi, ieri la sede unica della regione Abruzzo di Pescara, la Piana del Fucino, la Ferrovia Pescara-Roma, tutta la fase di ricostruzione che va sostenuta ed aiutata nelle due aree del cratere sismico, possiamo chiudere il tanto lavoro fatto sin qui. Noi saremo uniti e certamente saremo i vincitori di questa tornata elettorale, dall'altra parte bisogna ricostruire unità umana, unità programmatica, condivisione di un programma dopo una campagna elettorale che le ha lacerati. Immagino che anche nel 2024 il centrodestra possa offrire una piena competitività della sua proposta politica che sarà fatta dei fatti raggiunti e fatti sin qui e della unità e della condivisione della propria coalizione. Lei faceva riferimento a alcune infrastrutture strategiche, però c'è anche un tema legato alla collocazione dell'Abruzzo anche nella geopolitica di questo paese. Lei crede per esempio che questo progetto di autonomia differenziata, lei si è occupato molto anche proprio da Presidente del Consiglio regionale di questo tema, possa essere uno degli spunti in cui si discuta in Parlamento ma ci si possa anche dividere tra Nord e Mezzogiorno, è una proposta squisitamente leghista? L'autonomia differenziata è un termine che poi deve essere calato sui numeri. In termini assoluti l'Abruzzo avrebbe una convenienza nel bilancio tra la produzione di gettito fiscale e i trasferimenti che arrivano dallo Stato. Io le devo dire che personalmente io credo nello Stato, nell'unità dello Stato, nella solidarietà tra le regioni. Devo dire che il Mezzogiorno ha molto pagato in questi anni la concentrazione di una spinta anche giustificata verso le regioni più produttive. Noi abbiamo un deficit infrastrutturale che dobbiamo colmare assolutamente. Credo che l'Abruzzo sia una piattaforma del medio adriatico assolutamente competitiva, se dotata delle infrastrutture che le mancano o rafforzando quelle che già abbiamo. Penso al porto di Ortona, penso all'aeroporto, ho già parlato delle ferrovie, penso alle autostrade, penso al porto di Vasto. Noi credo che possiamo diventare una grande piattaforma di attrazione e di investimenti per lavoro, per nuovo lavoro e per nuove imprese nel medio adriatico. È un tema che proprio sui temi del meridionalismo, in particolare su quello anche strettamente legato del reddito di cittadinanza, ci sia per voi un rischio che i voti degli indecisi poi vadano ad orientarsi in particolare verso il Movimento 5 Stelle? Ci si orienta quindi per un voto di scambio, si ha paura di non poter più percepire una prebenda di Stato per stare a casa invece che cercare di combattere. Noi non siamo per la distruzione del reddito di cittadinanza, noi siamo per ricostruirlo e darlo effettivamente alle persone che hanno bisogno, non a coloro i quali per troppo tempo si siedono in attesa che qualcuno pensi a loro e non sono in una situazione di disagio né fisico né lavorativo. Ora però far scatenare una guerra civile su questa regalia da parte di qualcuno è particolarmente irresponsabile, non mi pare che Conte e il Movimento 5 Stelle abbiano un grande senso dello Stato. Il reddito di cittadinanza è una conquista sociale che però deve essere riservato alle persone che ne hanno effettivamente bisogno perché come lei perfettamente sa ci sono gravi difficoltà ad acquisire forza lavoro in tanti comparti produttivi anche e soprattutto di questa regione, pensiamo a tutto il comparto produttivo del turismo invernale estivo che si trova in grandissima difficoltà. E in che cosa si differenzia soprattutto nei confronti dell'elettorato moderato la proposta di Forza Italia da quella del polo di Calenda e di Renzi? Ma guardi il polo di Calenda e di Renzi stanno a sinistra, è molto semplice dal punto di vista della capacità elettiva con tutto rispetto per i loro candidati, visto il sistema elettorale che loro hanno voluto perché si chiama Rosatellum per un parlamentare che si chiama Rosato che è un parlamentare di Renzi, il quale Renzi è l'anima del movimento di Calenda. Noi siamo all'interno invece di una coalizione di centro-destra che ha chiari 4 punti, sono quelli che servono all'Italia, più sicurezza interna, più Italia in Europa, più lavoro che si fa con meno tasse. Punto. Su questi 4 punti noi abbiamo un'unità di coalizione che se uscirà forte, come io ritengo, dalle elezioni con una maggioranza concreta, potrà finalmente fare le riforme che a questo Paese occorrono. Ultimo appello agli elettori in questi pochi minuti che restano della nostra conversazione. Sospiri, a chi si sente di rivolgere una richiesta di mobilitazione per andare alle urne innanzitutto, considerato che queste percentuali di cui non possiamo più parlare perché i sondaggi sono vietati o perlomeno non è vietata la comunicazione, sono comunque alte da quello che ci risulta. Andare a votare è un diritto conquistato con il sacrificio di tanti, è un diritto e anche un dovere. Io spero che gli abruzzesi vadano a votare, io credo nella politica, credo nel confronto democratico, possono scegliere di votare tante opzioni, il mio invito è a votare centrodestra perché è il voto più utile per dare stabilità alla nazione, la stabilità e la precondizione per riuscire a risolvere i problemi. All'interno del centrodestra chiedo di votare Forza Italia perché è l'elemento di stabilità di una coalizione, di presentabilità internazionale e della moderazione necessaria per cercare di stare seduti a un torno al tavolo e a risolvere il problema. Per quanto riguarda l'Abruzzo credo che sia il voto più utile di tutti perché eleggerete due parlamentari abruzzesi, l'onorevole Pagano alla Camera e me al Senato. E leggendo me al Senato sicuramente eleggerete una persona che ha sviluppato la competenza necessaria, la serietà e la grande voglia di lavorare per risolvere i problemi di cui l'Abruzzo ha urgente bisogno. Grazie, grazie a Lorenzo Sospiri, grazie ai nostri telespettatori e appuntamento alle prossime occasioni con le nostre tribune elettorali. Arrivederci. Grazie. Grazie.